Drammatica scoperta questa mattina ad Arezzo. Il corpo di una 26enne è stato trovato vicino ad una panchina dei giardini del Porcinai, a pochi passi dalla stazione di Arezzo, una zona della città, spesso teatro di episodi di cronaca. A notare il cadavere alle prime luci dell'alba alcuni passanti che stavano andando a prendere il treno. L'uomo di origini tunisine, noto alle forze dell'ordine senza fissa dimora, pare trovasse rifugio sempre in posti diversi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso, è intervenuta anche la polizia di Stato che ha avviato accertamenti per capire cosa sia accaduto. A stroncare la vita del giovane sarebbe stato un arresto cardiaco. Non ci sarebbero infatti, secondo le prime informazioni, segni evidenti di violenza o elementi che possono ricondurre la morte ad un overdose. Gli inquirenti non escludono che il malore possa essere stato causato dalle basse temperature notturne in una delle notti più fredde delle ultime settimane. Il PM di turno Francesca Eva ha disposto l'ispezione cadaverica.